L'annullamento della prima gara per il nuovo ponte sul Serchio è stato legittimo. È quanto di fatto ha stabilito il Tar respingendo il ricorso presentato da Compat, dando ragione alla provincia sullo stop all'appalto. La Compat, risultata vincitrice della gara, decise di impugnare gli atti e presentare ricorso al Tar contro la decisione di Palazzo Ducale di fermare la procedura perché i prezzi erano nel frattempo lievitati, tanto da rischiare di mettere in forze la fattibilità complessiva dell'opera. Una scelta che per il Tribunale Amministrativo regionale ha tenuto conto di un prevalente interesse pubblico, si legge nella sentenza, che suggeriva di non procedere all'aggiudicazione. Capitolo chiuso, ma da qualche giorno se ne è aperto un altro, è quello del nuovo bando di gara che è stato appena pubblicato. Obiettivo assegnare lavori e far partire finalmente i cantieri.